Con i suoi meno 93 gradi centigradi, di certo l'Antartide non è la meta preferita di turisti e vacanzieri, che tra le altre difficoltà dovrebbero anche difendersi dall'attacco di pinguini, ormai cittadini onorari del continente glaciale. Per fortuna però, non solo loro possono godere di alcuni incredibili panorami ghiacciati, o essere testimoni di un mistero quasi del tutto sconosciuto come le cascate di sangue. Sì, avete sentito bene. Il suggestivo nome per questo eccezionale spettacolo della natura deriva da uno dei coraggiosi esploratori che nel 1911 raggiunse l'Antartide trovandosi di fronte ad un grande fiume rosso nel bel mezzo di una bianchissima distesa desertica. Griffith Taylor, il geologo australiano che oltre un secolo fa si avventurò tra i ghiacci per alcune ricerche, vide infatti che dal ghiaccio fuoriusciva dell'acqua rossastra, data, secondo lui, dalla presenza di alcune particolari alghe. Il colore della misteriosa quanto inquietante cascata di sangue è dovuto invece all'ossidazione del ferro a contatto con l'ossigeno. La spiegazione toglierà sicuramente un po' di fascino al fenomeno antartico, ma la sua eccezionalità resta invariata. Grazie a tutti.